Proclamati i vincitori assoluti della tappa cittadina di School Movie, rassegna cinematografica promossa dall'omonima associazione Insieme Marketing e Consulting e ideata da Enza Ruggero. In piazza sabato sono stati selezionati i lavori che prenderanno parte il prossimo 19 giugno alla finalissima della sesta edizione nella cornice del Gifoni Film Festival, dove saranno in gara con gli altri 40 comuni aderenti al progetto. Sono stati premiati per la sezione scuola primaria, la quarta C del plesso per l'ASCA dell'Istituto Comprensivo Vicenza, con il video Tutti a scuola, per la sezione scuola secondaria di primo grado, la seconda C del plesso Daniele Zoccola dell'Istituto Comprensivo Ponte Cagnano Sant'Antonio, con il video Ti racconto l'autismo, per la sezione comics, le classi seconda A e terza A della scuola primaria Rodari dell'Istituto Comprensivo Ponte Cagnano Sant'Antonio, con il video Scuola Alternativa.